Sono un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi europei. Mi chiamo Agroalimentare Idrointelligente, ma puoi chiamarmi Aladin. Ho impiegato due anni per mettere a punto a integrare una complessa sequenza, che inizia con la rilevazione dell'esigenza idrica di una cultura e si conclude con la sua irrigazione di precisione a rate o variabile. Dall'aprile 2018 è operativo un prototipo di servizio irriguo, un robusto sistema distribuito open access, completamente automatizzato. Ti descrivo come lavoro al servizio dell'agricoltore. Dei sensori a terra o un drone o i satelliti rilevano lo stato di stress idrico di un campo di mais, pomodoro o altre culture irrigue. In particolare ho testato due tipologie innovative di sensori. Nell'ambito del progetto Aladin abbiamo realizzato e installato tre piattaforme sperimentali. Due piattaforme per la rivelazione delle emissioni di gas e una piattaforma sperimentale di spettroscopia gamma. Le piattaforme per rivelazione di gas hanno avuto la funzione di correlare le emissioni di gas delle piante con lo stesso idrico delle stesse. La piattaforma di spettroscopia gamma ha permesso la rivelazione dei raggi gamma durante tutta la stagione di coltura del pomodoro. Tramite le variazioni del segnale gamma è stato possibile ricavare il contenuto d'acqua nell'arco dei sette mesi. Successivamente elaboro i dati raccolti e divido il campo in celle a diversa esigenza idrica. Invio la mappa dell'esigenza idrica al sistema esperto IRINET del CER che calcola una ricetta irrigua cella per cella. Il servizio IRINET è un servizio di assistenza tecnica per l'irrigazione gratuito per tutti gli agricoltori che si registrano attraverso il sito dei consorzi di bonifica. Questo dice in funzione delle colture che l'agricoltura ha in azienda a passo giornaliero e in maniera georeferenziata quant'acqua dobbiamo dare in funzione del nostro sistema irriguo. La mappa di prescrizione che arriva dal server Aladin con le diverse vigorie date dall'NTVI ottenuto da satellite o da drone vengono integrate con il sistema irriguo di IRINET e otteniamo dei volumi di adacquata puntuali differenziati all'interno del campo. Con la ricetta irrigua fornita da IRINET imposto una lista di comandi per la macchina irrigatrice. L'utente chiama l'esecuzione della ricetta irrigua tramite l'Aladin Mobile App e la trasmette all'elettronica dedicata che comanda la macchina irrigatrice che dà corso all'irrigazione a rate o variabile. in cui l'agricoltore deve solo registrare i campi e le culture sul server Aladin e premere lo start della macchina irrigatrice da comandare con l'Aladin Mobile App. L'irrigazione di precisione oggi è imprescindibile. Il contesto ambientale e climatico che attraversiamo lo richiede. Questo progetto ha ottenuto di collegare insieme tutte le fasi che vanno dall'acquisizione dell'esigenza idrica fino all'irrigazione a rate o variabile. Questo progetto ha un cuore ICT in cui vengono collegate le componenti che riguardano la trasmissione dei dati al sistema IRINET, l'acquisizione da IRINET di una ricetta idrica, il comando di una macchina irrigatrice rate o variabile, tutto in termini automatizzati. Nei confronti dell'agricoltura, quindi, il progetto si pone in questi termini. Massimizzare la resa e in questo contesto dare la massima efficienza del uso della risorsa idrica. Aladin è irrigazione SMART 4.0, semplice e user-friendly. Con il rate o variabile Aladin, nessuno spreco d'acqua e riduzione della domanda idrica fino al 20%. Da centri di ricerca E da imprese dell'Emilia-Romagna Una soluzione concreta per un'agricoltura sostenibile.